salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ormai tanti di voi conosceranno sicuramente Skylum una software house che è specializzata nel fare software dedicati alla fotografia loro hanno sede a Kiev in Ucraina e tuttora comunque stanno cercando di rilasciare software e aggiornamenti avevano rilasciato pochi giorni prima dell'inizio della guerra il loro nuovo software Luminar Neo questo software che io ho portato qua sul canale la recensione che vi lascio qua sopra nelle schede se volete dargli un'occhiata un software con un'intelligenza artificiale incredibile che ci permette di migliorare le foto loro come vi ho detto appunto hanno sede a Kiev e tantissimi dei loro dipendenti che sviluppano il software stanno lavorando dai sotterranei delle metropolitane quindi ragazzi tanto impegno per un'azienda che si trova in una situazione quasi surreale dal punto di vista logistico per quello che gli sta succedendo intorno ma che sta cercando comunque di continuare a lavorare e ovviamente già dalla loro home page si capisce di che nazionalità sono perché comunque sia il logo che la scritta che scorre sopra nella home page è ovviamente dedicata all'Ucraina e in tutta questa situazione surreale e pazzesca che c'è intorno all'Ucraina in questo momento loro hanno rilasciato in questo momento un pacchetto loot cosa un pacchetto loot un pacchetto con delle color correction da inserire sia nei software fotografici che in quelli video quindi non solo nei loro software di loro proprietà ma in qualsiasi software che supporta i loot quindi che sia anche photoshop e anche qualsiasi software di editing video quindi che sia final cut che sia Adobe Premiere che sia Filmora che sia DaVinci Resolve infatti se noi andiamo nella schermata dedicata all'acquisto di questo pacchetto loot la prima cosa che subito ci attira l'attenzione sono i nomi che hanno dato i vari loot che hanno creato perché ogni loot del pacchetto che andate ad acquistare che loro hanno chiamato freedom cioè libertà è dedicato alle città ucraine quindi ogni loot dei 10 contenuti nel pacchetto vi lascio qua sotto il link in descrizione se li volete acquistare perché come vi ho detto e come vedete dalla schermata sono utilizzabili praticamente con qualsiasi software che ha la possibilità di utilizzare i loot e questa cosa di avere creato un software dedicato alle loro città principali per quanto riguarda l'Ucraina è sicuramente qualcosa che ci fa capire che situazione pazzesca e assurda stanno attraversando quindi come vi ho detto in descrizione trovate il link per l'acquisto il pacchetto con 10 loot costa 29 euro se volete sostenere questa software house dategli un'occhiata se vi interessa se vi interessano i loro software di cui come vi ho detto ho portato la recensione di luminar neo questo software pazzesco se ragazzi fate foto con i droni dovete acquistarlo assolutamente perché vi fa creare e vi dà la possibilità di rendere le vostre foto che magari sono già belle qualcosa di incredibile da postare su instagram o da condividere sui vari social o da stampare da appendere in casa cioè veramente vi dà una creatività e soprattutto vi dà un miglioramento quello che magari è già la foto di per sé un'ottima foto ma ragazzi l'intelligenza artificiale che hanno introdotto è qualcosa di incredibile quindi ragazzi questo era solo un video per promuovere appunto questi prodotti di Skylum perché loro come software house stanno davvero attraversando una situazione difficile ma stanno davvero facendo di tutto per continuare a soddisfare i loro clienti sia con gli aggiornamenti software infatti è uscito pochi giorni fa l'aggiornamento per luminar neo e adesso questo pacchetto di loot freedom dedicato alle loro città ucraine quindi ragazzi se questo mio video vi è piaciuto e vi è stato interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tantissime novità anteprime spoiler di quello che faccio dove vado a far volare i miei droni sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante il mondo dei droni e della tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una recensione un test un tutorial novità ciao al prossimo video